E per i tuoi di scuole personini benvenuti in questo nuovo video, sono Sir Sparciali, Tietana Shax Oggi siamo qui su... Non è vero, porca Eva E per i tuoi di scuole personini benvenuti in questo nuovo video, sono Sir Sparciali, Tietana Shax Oggi siamo qui su Happy Room Siamo in questo gioco che è veramente divertente Fa per me Allora, vi dico che è un sandbox Si compra da Steam, ma è veramente, veramente bello L'obiettivo è di massacrare il dummy Questo è il dummy Come fare con queste trappole, diciamo Con questi armeggi E niente, la missione fai danno e fare queste missioni qua Per ora sono arrivato alla quindicesima missione O meglio, alla decima missione Esatto, alla decima missione Ogni trappola, ovviamente, costa dei soldi I soldi li abbiamo quando facciamo le missioni Per ora, ovviamente, quando facciamo le missioni avanziamo anche di livello Quando avanziamo di livello possiamo mettere, possiamo comprare delle armi E soprattutto, oppare qualcosa Con un euro Vuol dire che io posso fare un'app a qualcosa E le faccio alle spikes Ho fatto le spikes Perché? Perché c'è questa missione qui Che dice Stai 15 secondi A guardare il dummy Cioè lui Prende le dame Ma non 15 secondi in tutto 15 secondi Cioè Deve perdere sangue Quindi Proprio Oddio Stare sopra le spear qua Quindi 15 secondi Come si fa? E' così Ragazzi Ma forse è così Però Cioè Deve essere più forte la spinta Ok? Quindi Deve fare Sì le spear Che Quei corsi che sono Niente ragazzi Ho perso di nuovo E adesso ragazzi Allora Ho cambiato un po' la stanza Ho levato Dere spikes Mi ho messo una Per ogni jump E ho messo Più fine E un altro crossbow Vediamo se riesco A ucciderlo O almeno a fare Quei danni che mi servono Perché il crossbow Come vede Se fa gli headshot Fa danni assurdi Qualcione di danno A caso Bam Fa gli headshot Dai che Fa gli headshot Niente Dai dai Ma lì ora Quando finisce È Questo per i ragazzi Non Quando poi Finisce L'energia Oh Ragazzi Ci sto quasi riuscendo No Dai 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 No 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 Una zanzara Qualcosa Una zanzara No 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 Ok ragazzi Ci riproviamo Ho tolto Due mini Ha messo sto coso Che fa Sompare via Però Quello tipo Oh Ah Posso fare Anche Quella missione Cioè Colpirlo Mentre Imparato Con 5 crossbow Ah Non l'avevo vista Quella missione Vabbè 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 Dopo Lo facciamo Perché Guarda È una semplice Basta Mettere Il crossbow Tutti Da una parte Praticamente Dai Fai danno Fai danno Boom Dai Sto a 855 5 danno Ragazzi Forse 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 Ce la faccio Cioè 919 Sì 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 Ce l'ho fatto Ragazzi Sì Sì Vai Vai Contro a far danno E niente Ragazzi Però ho fatto Questa missione Sì Sì